Gabriele Costanzo, rieccoci, che bello vederti ogni volta, pronti per iniziare questa nuova settimana, questa nuova settimana mio caro Gabriele, e secondo me questa puntata sarà molto molto particolare per te sai, ma mi hanno detto, mi hanno fatto qualche spoiler e quindi sono molto curioso, da dove vieni tu per svolgere questa professione qui da noi? Mixology Academy Da chi è stata fondata Mixology Academy? Ilias Contreas E poi un altro socio, Luca Malizia Però oggi in collegamento con noi dal Costa Rica, quindi da lontanissimo, secondo me sta meglio lui che noi qua, vediamo cosa ne pensa, lo presentiamo con questo RVM e tu sei a fianco con me Ciao, mi chiamo Ilias Contreas e oggi faccio l'imprenditore, ma ho iniziato la mia carriera come barman Ciao, mi chiamo E allora come vi ho preannunciato in collegamento dal Costa Rica, Ilias Contreas Eccolo, buonasera, buonasera, benvenuto Buonasera, grazie mille per l'invito Ciao Ili Allora Ilias, guarda